Il Comune di Milano è impegnato storicamente in relazione a quelle che sono le azioni legate alla cooperazione e al sviluppo. Questo è un impegno storico dell'istituzione locale convinti che da qua possano costruirsi, consolidarsi relazioni importanti con filiere produttive riguardanti altri popoli, altri paesi. E poi il lavoro che si sta facendo nella città oggi probabilmente con più convinzione di prima è quello di intensificare la relazione con le comunità dei migranti qui proprio rispetto alla sfera dei diritti, alla qualità della vita. Insomma, come è stato autorevolmente detto tempo fa, sono arrivate persone non braccia al di là di quello che si riteneva. E questo vuol dire avere a che fare con donne e uomini che sono portatori di domande e di necessità rispetto a cui non poter girare la testa.